Allora signore e signori buonasera qua ci troviamo alla macchina vecchia a Pantane. Allora per arrivare qua è molto semplice basta arrivare all'acquadiera dove c'è il distributore di benzina. Sulla destra si gira per via Capocroce via Capocroce vai sempre dritto giù in fondo alla strada c'è proprio una segnaletica al costretto il lago di cavallo voi prendete a destra andate sempre dritto e arrivate fino a qua qui ci troviamo in uno dei canali che poi portano al lago di fondi siamo veramente a pochi passi dalla strada che porta al lago di fondi facciamo qualche foto sono dei paesaggi che sono veramente incontaminati e meritano veramente di essere di essere visti e di essere conosciuti questo per esempio è la segnaletica che porta al raddotto questa è la strada che porta direttamente al raddotto sta pieno di mostri qui non potete immaginare però è veramente una zona se adesso mi fermo ti faccio sentire esclusivamente la natura aspettate sta passando a me sta passando verso il camion perché non è che poteva passare dopo no? vabbè giustamente non è che può sapere non so se si vedono le ragnatele ciao ci conoscono pure qua passa un attimo il camioncino c'è manca una foto qua nel frattempo comunque merita e che c'è a casa se non mi sbaglio dovrebbe essere il fiume dell'acqua di aree allora dicevamo adesso stiamo in silenzio e sentirete esclusivamente la natura vai bello eh bello veramente emozionante ne vale veramente la pena per chi può venire qui con la bici o con la macchina è riparteggiato un attimo da qualche parte qua tanto comunque insomma è abbastanza agevole ho potuto farmi una passeggiata così no? ne vale veramente la pena se c'è Napoli o Ranogna ciao